e dunque quello che voglio dirvi io innanzitutto certe cose non ho condiviso tutto quello che ha detto Francesco vi spiego perché allora se partiamo dalla traccia dei titoli i titoli che ha detto Francesco oggi sarebbero attualissimi e sarebbero sicuramente tema di traccia possibile di sport se l'esame lo faceste tra una settimana o in questi giorni il vostro esame lo farete ad aprile e quindi ricordatevi sempre che è fondamentale l'attualità voi quando andate a ridosso dell'esame ma penso che si occupa di comunicazione lo faccia sempre quotidianamente però quando andate a ridosso dell'esame nell'ultima settimana 10 giorni leggete sempre i giornali costantemente perché il tema che viene scelto viene scelto la sera prima dell'esame quindi è assolutamente molto attinente all'attualità per cui quello che accadrà in quel periodo quando farete voi l'esame ad aprile sarà oggetto della traccia per cui che ne so oggi mi sento di prevedere che se siamo ad aprile lotta a scudetto il cammino europeo delle squadre italiane intanto salutiamo Piero Schiavazzi che è appena arrivato che sarà dopo di noi credo a parlare di informazione religiosa qui viene fuori il tifoso comunque ecco però sicuramente il tema della Cina può essere ancora di grande attualità però fate sempre attenzione alla all'attualità di quei giorni detto questo sì io invece sono molto d'accordo con Francesco Repice sul fatto che se non siete giornalisti sportivi vi consiglio di non fare il tema di sport ma perché per due motivi innanzitutto il commissario di esami si incuriosisce subito sul fatto che ci sia un giornalista che segue un altro argomento e faccia il tema di sport così come se c'è un giornalista sportivo che sceglie di fare il tema di economia e poi perché secondo me il giornalista sportivo ha una specificità molto particolare se noi scriviamo di sport ci rivolgiamo a dei colleghi dei lettori scusate che a volte sanno anche più di noi che sono preparatissimi anche su temi tattici su temi statistici mentre un giornalista che scrive di economia si rivolge a un pubblico che deve essere informato e deve conoscere delle nozioni il lettore di sport spesso conosce benissimo quella materia la conosce in maniera proprio viscerale e quindi dobbiamo essere molto attenti anche alla cura dei particolari dei dati della conoscenza in chiave tattica se si parla di calcio anche di altri sport della conoscenza anche dei numeri delle statistiche e questo è un tema che secondo me vale in generale perché in un momento così difficile della nostra professione io credo che anche in tema di esami dovremo alzare l'asticella della qualità della nostra preparazione perché saremo sempre più credibili se dimostreremo di aver studiato prima di scrivere questo secondo me è un principio che dobbiamo avere sempre presente soprattutto in questo momento e quindi quando andate a prepararvi per l'esame tenete presente che sulla prova scritta ecco mi ha chiesto l'amico Carlo Picozza di soffermarmi in particolare su questo sulla prova scritta e quindi vi dico che lo saprete già avrete cominciato a studiare voi siete tenuti a fare tre prove scritte che una è il questionario dove si risponde a sei domande su deontologia diritto pubblico penale e attualità poi c'è la sintesi e poi c'è l'articolo ecco allora fate attenzione a questo sulla prova scritta vi dico esperienze fatte dalle ultime commissioni perché occupandomi di formazione al consiglio nazionale dell'ordine e anche essendo stato delegato in passato delle scuole di giornalismo prima la luis e poi la lunza mi sono occupato anche spesso degli esami ecco molto spesso sul questionario si danno risposte in un pessimo italiano perché soprattutto si cerca di rispondere al quesito invece anche in quella voi avete il limite delle 300 battute fate attenzione all'italiano anche in quella in quella prova lì in quella del questionario sì 300 battute a domanda a domanda sì per cui anche lì fate attenzione curate la scrittura anche in quella che voi pensate soltanto di dare una risposta e quindi perché hanno rilevato i commissari che a volte si risponde con sciatteria questa dal punto di vista della della qualità della scrittura perché si si concentra soprattutto a dare la risposta esalta su quello invece fate attenzione anche in quelle 300 battute per quanto riguarda la sintesi è la prova dove i commissari mettono tutti sullo stesso piano perché mentre quando andrete a fare l'articolo poi ognuno di voi sceglierà l'articolo che fate a fare se fare quello di cronaco piuttosto che una delle 15 tracce che la commissione vi darà nella nella sintesi siete tutti sullo stesso piano e dove lì la commissione valuta la capacità di scrittura del del candidato perché è chiaro che in quel caso tutti hanno lo stesso punto di partenza e a prescindere dalla conoscenza dei vari argomenti cioè voi potete essere preparatissimi sulla cronaca sullo sport e sull'economia lì dovete nella sintesi dovete dimostrare appunto di saper scrivere nell'articolo l'articolo avete due opzioni una è quella della della cronaca la scelta che fanno la stramare la stragrande maggioranza dei candidati che la commissione vi darà delle tracce con delle agenzie e si tratta di costruire un articolo con quelle tracce a volte molti candidati ritengono questa la cosa più semplice però anche qui ci si può imbattere in qualche errore anche abbastanza grave per esempio in quest'ultima commissione credo che con carlo ne avete parlato è stato dato una traccia di cronaca con un omicidio per rapina in una villa ecco ci sono state delle molte ricostruzioni imprecise ci sono state molte ricostruzioni imprecise e anche confusione sulle competenze delle forze dell'ordine dei magistrati per cui se scegliete di fare il tema di cronaca dovete avere una dimestichezza con la cronaca perché non è soltanto un semplice copia e incolla dell'agenzia ma ricostruire un articolo organico in base a quegli elementi che vi danno loro non lo specifico non so dirvi però soprattutto è stato questo la confusione sulle competenze delle forze dell'ordine dei magistrati e poi ecco un altro tema importantissimo un altro consiglio che vi do molto importante altre criticità che sono emerse in questi esami riguarda l'uso approssimativo della punteggiatura ecco fate attenzione l'uso approssimativo della punteggiatura e numerosi refusi su questo le commissioni non transicono perché sei ore di tempo per un candidato sono necessari secondo i commissari per poter rileggere due o tre volte e quindi evitare i refusi questo fate molto attenzione rileggetelo tante volte siate concentrati quando rileggete perché a volte uno quando rilegge il servizio sta già pensando magari a quello che deve fare dopo quindi alla sintesi piuttosto che al questionario quindi ritengo che sia molto importante voi non avete l'accesso a internet durante l'esame per cui se fate non il tema se scegliete non il tema con le agenzie ma quello con la traccia dovete se trattate un argomento specifico sapere ricordarvi dei dati a memoria questo è un argomento sul quale il consiglio nazionale dell'ordine dibattere a tempo però al momento l'uso di internet non è previsto negli esami l'altra cosa che volevo dire è appunto questa la punteggiatura è importante in questi ultimi esami che sono stati elaborati dai candidati in quest'ultima commissione sono usciti a volte anche il soggetto virgola e verbo in alcuni esami in alcuni elaborati per cui insomma fate molta attenzione anche alla punteggiatura il consiglio che vi do è di fare appunto un racconto molto sobrio senza pareri personali qui vi parlo se scegliete il tema il tema sulla traccia che possa essere di sport ma in generale il consiglio che do a tutti è anche riguardo anche gli altri temi quindi non andate avanti su un elaborato con effetti speciali cercate appunto una scrittura molto sobria molto attenta con periodi brevi come diceva giustamente prima Francesco e ricordatevi che si chiede un articolo su un argomento che il commissario ritiene che voi conoscete bene non un editoriale non dovete esprimere un'opinione o un commento ma un articolo su un argomento che dovete dimostrare di conoscere bene un semplice articolo anche vorrei dire senza appunto voli pindarici e l'altra cosa nei giorni prima dell'esame vi capiterà di qualcuno che vi tira per la giacca e vi dice ah so la traccia del tema succede spesso capitava già ai miei tempi molto spesso queste previsioni sono infondate ma a volte ci si azzecca ecco è capitato di candidati che si sono preparati un tema un elaborato su una traccia che era abbastanza simile a quella che è poi uscita e avendolo già preparato hanno portato avanti questo elaborato quasi con non voglio dire un copio in colla però insomma se l'erano preparato hanno preparato questo tema su una traccia la traccia era un po' diversa e poi sono finiti fuori tema e questo i commissari se ne sono resi conto e ci sono stati delle bocciature su questo ricordatevi sempre io penso ormai oggi si accede all'esame da professionista attraverso vari percorsi una volta ci si arrivava soltanto dopo aver fatto il praticantato tradizionale in una redazione oggi immagino che tutti voi già lavorate e lavorate da tempo e avete molte esperienze professionali chi avete di fronte non sono dei professori sono dei colleghi a volte orgogliosi perché chi sceglie di fare il commissario d'esami lo fa anche perché ha un pizzico d'orgoglio diciamo e che vuole mettere a disposizione la sua esperienza accumulata negli anni ai colleghi e quindi avete di fronte una commissione di colleghi e soprattutto colleghi che quando andranno a correggere i vostri elaborati sono dei giornalisti e non dei correttori dei bozzi per questo qui dico fate attenzione alla punteggiatura fate attenzione ai rifusi perché quella è una cosa che il il commissario fa tiene molto in considerazione perché non vuole dare un giudizio giornalistico e non vuole fare il correttore dei bozzi e leggendo il vostro elaborato e devo dirvi che in questa commissione ma anche nelle altre che hanno preceduto questa ci sono commissari molto ci sono stati commissari molto tranquilli tra l'altro vi dico anche che il presidente della commissione d'esami è Saverio Cicala che è un giornalista molto per bene un collega molto per bene per cui io ritengo che se adesso non conosco ancora anzi non è stata ancora stabilita quale sarà la commissione che esaminerà che vi esaminerà la vostra sessione però ecco di solito la come posso dire la 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 scelta dei candidati si fa su dei colleghi che hanno che hanno voglia di affiancare chi si avvicina a questo a questo mondo che quindi comunque già ci sta dentro da tanto tempo quindi va a fare l'esame da professionista insomma viene esaminato con con grande con grande senso libero ecco senza non ci non ci saranno io ritengo dei commissari d'esami pronti con il fucile spianato ecco tenete presente questo tenete presente soprattutto che avrete di fronte dei colleghi quindi l'attenzione massima all'attualità di quei giorni all'attualità stretta dell'ultima settimana per individuare per cercare di capire quale sarà la traccia del tema e soprattutto per essere pronti a fare il tema se scegliete quello delle tracce considerate ne avete 15 di tracce sui vari argomenti che possono essere appunto lo sport l'economia la cronaca lo spettacolo per cui avete la possibilità di scelta se fate il tema sulle tracce dovete farlo con la massima preparazione sull'argomento se fate il tema sulle agenzie dovete farlo facendo attenzione a conoscere bene la materia di cronaca e soprattutto di non fare confusioni come è successo adesso sulle competenze della forza dell'ordine e dei magistrati perché chiaramente un giornalista che scrive su un giornale non può permettersi questo brevemente prima di salutarvi e lasciarvi spazio se avete delle domande vorrei dirvi appunto come si fa un tema di sport il linguaggio del giornalismo sportivo è cambiato radicalmente negli ultimi anni lo diceva anche Francesco prima i giornali si sono evoluti o comunque hanno diversificato il loro modo di raccontare lo sport in base a quello che è stato l'avvento della televisione a pagamento che comprime praticamente o meglio dilata completamente l'informazione sportiva ormai fare un articolo su una partita di calcio non è più la cronaca dove ci si inseriscono dentro un commento soltanto brevi sceni di cronaca perché chi segue il calcio e vuole interessarsi su una partita ha già visto tutto non solo la partita in diretta ma ha visto gli highlights ha visto già tutte le interviste ha visto tutti i commenti alla fine per cui bisogna diversificare il modo di raccontare il calcio in particolare lo sport e bisogna dare al lettore una interpretazione di quello che si è visto un commento in questo caso si lasciare da parte i commenti invece sulle sane però ecco questo per dirvi come è cambiato il modo di raccontare lo sport è cambiato il modo di raccontare lo sport sulla carta stampata perché oggi vediamo tutto sulla televisione per cui il giornalista di carta stampata deve andare oltre negli anni 70 la grande rivoluzione del giornalismo sportivo la fecero Gino Palumbo alla Gazzetta dello Sport e Antonio Ghirelli al Corriere dello Sport Ghirelli prima negli anni 60 e poi successivamente con quello che era stato un suo allievo con Giorgio Dosatti perché proprio in quegli anni il giornale sportivo passò da un giornale molto tecnico di risultati di cronaca di racconto minuzioso delle partite passò invece a raccontare quello che era lo spogliatoio e lo spogliatoio grazie a Antonio Ghirelli che è stato un grandissimo giornalista partito dallo sport ma poi arrivato ad altissimi incarichi fino ad essere il capo ufficio stampa della Presidenza della Repubblica raccontò sempre con grande orgoglio che lo spogliatoio lui lo trasferì dallo sport a Montecitorio quello che sono oggi retroscena su tutti i più importanti giornali non è altro che lo spogliatoio che nasce dallo sport e poi si trasferisce al mondo politico per cui è cambiato moltissimo il modo di raccontare lo sport di fare informazione sportiva e è cambiato naturalmente anche il linguaggio per cui il linguaggio che dovete tenere presente se scegliete di fare la traccia di sport deve essere un linguaggio molto molto semplice in questo caso se quando scriverete di un commento di una partita oggi invece dovete fare più un commento piuttosto che la cronaca e questa è assolutamente l'evoluzione che c'è stata nel mondo del giornalismo sportivo